Che succede qui? Una iurta. Sembra un altare, per una sorta di rito mongolo. Qualcosa la tiene ferma. Si è morsa la lingua. È morta dissanguata. Cosa avranno sopportato? Questo colore... Non lo riconosco. Samurai! L'aquila ti chiama! Non lo riconosco. Cantando, aumenta la loro sete di sangue. Non lo riconosco! Vieni! 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 C'è un po' di più. No, 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 no. No, 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 no. Lei condurrà la tribù dell'Aquila alle vostre coste. Tutta l'isola di Iki la seguirà. Venivano dall'isola di Iki. Madri. Jyn. Aiutami. Possa la tua morte giovare a tutti. Sono venuta appena ho saputo. Quella gente. Stanno ricevendo aiuto, ma non so se si riprenderanno. Cosa è accaduto? Non saprei. Non avevo mai visto questi mongoli prima. Seguono una persona chiamata l'Aquila. E vogliono attaccare Tsushima. Questa gente ha perso la testa. Se l'Aquila lo facesse a tutta l'isola... Non lo farà. Come la troverai? Uno dei suoi parlava dell'isola di Iki. È piena di predoni e criminali. Odiano i samurai. Lo so. Mio padre condusse una campagna per portare la pace. Ma morì su quell'isola. I samurai si ritirarono subito dopo. Ora si è insediato qualcosa di mostruoso su quell'isola. Devo tornare laggiù. Il clan Sakai non è ben voluto sull'isola di Iki. Se voglio indossare l'armatura Sakai, devo nascondere gli emblemi del clan. La barcha è pronta. Sposto. Salpiamo quando volete. Siate sicuro, Lord Sakai, l'isola di Iki non è un posto per samurai. Alla costa nord-occidentale. Al forte Sakai? Mio padre lo costruì per durare. Se ci sono problemi, la gente di Iki si sarà rifugiata lì. Vi ci porto più in fretta che posso, signore. Il mare ha arrabbiato da quando sono arrivati i mongoli. Le tempeste intorno a Iki sono impetuose. Non mi sorprende. La tribù dell'Aquila sta facendo qualcosa di terribile là. Hanno fatto infuriare i kami in qualche modo. Ma non temete. Ho affrontato di peggio. Vieni, Kaze. Fatti forza, amico. Kaze! Vieni, Kaze. Cade! Kaze! Spero tu sia in salvo. Ce l'ho fatta. Sembra un cuovo per il contrabbando. Devo trovare l'uscita. Ha funzionato. Il forte Sakai non è lontano. Devo vedere se si sono rifugiati lì. Il Kaze. Ti troverò. Forse vicino ai resti della barca, se è rimasto qualcosa. Dove si sarà cacciato? No, no, no. Grazie a tutti. 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 Calmati, siamo soli qui. Quando li ho sentiti, sono scappato. Ho visto il serpente solo all'ultimo. Hai fatto bene a ucciderlo. Non io, è spuntato un cavallo dal niente. Lo ha travolto, lo ha travolto, lo ha travolto, lo ha travolto salvandomi la vita. Il cavallo, da che parte è andato? Sulla collina, verso i mongoli. Grazie. Se trovi, se trovi, se trovi, se trovi, se trovi, se trovi, lo ha travolto. cranio frattura. Croni fratturato. Croni fratturato. Il calcio di un cavallo. Croni fratturato. Oh no. Kaze li ha travolti. Bel lavoro. Kaze! Sono qui, amico. Stai bene? Pensavo di averti perso, ma dovrei saperlo che tu non ti arrendi. Ricordi quel trucchetto di prima? La carica sui mongoli? Facciamolo ancora. Avvolgiamoli! È bello averti ritrovato, amico. Aiuto! Sono qui! Aiutatemi! Qualcuno è neguai. Aiutiamolo. Aiutatemi! 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 È l'unico sopravvissuto. Mi hai salvato la vita due volte Non c'è di che Intendevo lui, ma grazie a entrambi Buono Bel lavoro Forza, l'isola ha bisogno di noi Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti